ultima prova di giornata pivo firebird 29 taglia m 165 di escursioni dietro 170 davanti 38 e x2 col telescopico cascima tutto cascima e montaggio xtxtr anche se di xtr non ha nella catena nel pacco pignoni nel manettino a solo deragliatore che non ha alcun senso ma è giusto per dire che costa di più per un motivo ruote xm neanche le x stranamente quindi sono quelle un po più leggere da all mountain ma vabbè con mozzi dt 350 anche questa con gomme secondo me non appropriate a una bici che dice di essere una delle più veloci alle vs cioè l'exo plus addirittura davanti una exo io ci vedrei delle double down ma va bene dischi sembrano da 203 high stack center lock con l'impianto xt a 4 pistoncini manubrio in carbonio della pivò l'attacco della pivò secondo me troppo lungo sembra un 50 mm il colore molto bello anche se l'avrei preferita in arancione la stiamo provando in low la guarnitura è una race race affect anche questa con corona da 32 quindi per me gran fatica in salita allora come va in salita questa pivò firebird bene in quella che bobba meno di tutte una bella piattaforma sente che c'è parecchio anti scott al sag sebbene sia bella morbida resta bella sostenuta d'altronde un dw link quindi si sa questo tipo di bici si pedala davvero bene e confermo la cosa anche su questa l'unica cosa che sono davvero stanco ed è il terzo giro dopo un mese che non vado quindi la sto pagando tuttavia ottima posizione in sella e si pedala davvero bene piacerebbe se avesse un obbligo con rise più alto la lita è finita questo cavo fa un casino della madonna permesso 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 grazie è veloce 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 Sì, è un po' il traffico qua. Sì, è un po' il sentiero. Devo dire che questa è stata effettivamente la bici con cui mi sono trovato più al mio agio. La bici più veloce di tutte. Nonostante i 165 dietro, molto giocosa, divertente. Taglia perfetta. E niente, è davvero una bella bicicletta, devo dire. Agile, giocosa, divertente e anche molto veloce. E riesco anche a fare tutto lo skinny.